Prima di leggere questa interrogazione però volevo segnalare al Presidente che la volta scorsa nel Consiglio di settembre, oltre alle interrogazioni con risposta senza risposta, cioè che non rispondevano, ce n'era una che non mi era proprio arrivata la risposta e che abbiamo accantonato e che non ho più ritrovato nell'elenco. Si trattava della 256, affidamento lavori di manutenzione ordinaria alla TOP. Si vede che la TOP entra sempre in un cono d'ombra particolare, per cui oltre alle delibere che vengono pubblicate un anno dopo, anche le interrogazioni si perdono. Volevo solo segnalare questo, poi passo alla lettura, quindi spero che venga recuperata in qualche modo. Grazie. Allora, nuova linea interna di trasporto urbano. Atteso che nel bilancio di previsione 2011 è stata prevista l'istituzione di una nuova linea interna alla città per favorire il collegamento con la metropolitana, che nel Paes viene confermata la scelta della linea interna con la previsione di 10,5 corse giornaliere, il sottoscritto consigliere di Civica interroga il sindaco per sapere se e quando si prevede che la suddetta linea di trasporto urbano venga attivata, quale sarà il percorso e le fermate previste e se i fondi destinati allo scopo sono a disposizione dell'amministrazione.